Pierluigi, chi era il tuo portavolto? Scusa, Pierluigi, chi era? Luca Giurato? Chi era il tuo portavolto? Scusa, scuso lo sfogo, Giovanni, ma ci voleva. Cioè, ma ci voleva. Io sono ancora qui. Sono qui, nel palazzo, a Palazzo Chigi, mi ospita Conte, l'ufficio di Conte. Oh, è comodo, perché qui la password del Wi-Fi è facile. Sai qual è? È password. Sì, la messa di Maio, se no per lui era un casino, capito? Ecco, la password di... Sono qui, sono qui, ecco. Quindi, allora, cosa succede? Cosa succede, scusa? No, perché questo qui, Giuseppe, mi sta giocando con i droni, con gli elicotterini. Giuseppe, non puoi giocare con i droni, te l'ho detto mille volte. Ma fai a fare la domanda, fai il casting dell'Isola dei Tre. Scusa. Vieni qua, passami il drone. Vieni qua. Giuseppe, portalo qua! Eh, ma porca miseria. Vabbè, comunque, devi andare a fare il casting all'Isola dei Famosi, così magari diventi portavoce di Casalino. Io non ce l'ho fatto più. Mi stanca, non ne posso più. È stato due giorni col muso. Mi è stato due giorni col muso, Conte, perché Di Maio è andato in Cina, non l'hanno portato. L'hanno lasciato ai schuoceri. Dai, non è possibile. Scusa, arrivando. Buongiorno. Buongiorno.